Il prossimo incontro La grande guerra esplosa improvvisamente nel momento in cui da oltre 40 anni in Europa non c'erano guerre né rivoluzioni e la fede nel progresso faceva pensare che ormai si sarebbe definitivamente superata la passione per la guerra fu una specie di retrogressione ad epoche trogloditiche l'uomo viveva immerso nelle trincee sottoposto a una carneficina di massa quale mai non si era vista e tutto questo credo che ferì profondamente, distrusse definitivamente la convinzione che la modernità è sempre un'epoca di progresso governato dalla ragione verso la pace Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!